Sanzionati per aver violato le norme anti-Covid al termine di una festa abusiva organizzata nel residence. Otto giovani sono finiti nei guai. Il fatto è venuto a Rimini, nella notte tra sabato e domenica, verso le 2.30. Nella zona di Marina Centro, la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni ricevute da parte di residenti in merito alla presenza di alcuni ragazzi che, dopo aver fatto baccano in strada, si erano rifugiate all'interno di un residence lì vicino. Le divise, appena arrivate sul posto, hanno notato che al terzo piano della struttura diversi e giovani si erano affacciati dalle finestre e hanno così deciso di entrare. Dopo aver suonato più volte al campanello della stanza, da dove si udivano rumori di passi spediti e voci sovrapposte, gli agenti si sono visti aprire la porta da un riminese di 21 anni che ha cercato di convincere le divise, che all'interno dell'appartamento, composto da tre stanze, non stesse succedendo nulla. Tentativo, quello del ragazzo andato però a vuoto, agli occhi dei poliziotti. Una volta entrati nell'abitazione si sono parati sette giovani, sdraiati sopra i letti, con ancora addosso scarpe e vestiti, intenti a fingere di dormire. Al 21enne non era stato altro da fare che confessare di aver prenotato l'appartamento per festeggiare, in compagnia degli amici, cinque minorenni e tre maggiorenni, tutti residenti in città. Il sabato sera, gli occupanti sono stati identificati dalle divise sanzionate amministrativamente per la violazione delle vigenti normative riguardanti le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19. I minori sono stati riaffidati ai genitori.